Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Sinceramente non ne ho la minima idea, ma sono pronto a trovarla. Io sono Luca Gervasi e questo è Hey Luca, il podcast voice che parla di amore in maniera leggera ma intensa. Ogni settimana, infatti, con l'aiuto di un ospito attraverso le storie di voi ascoltatori, capiremo insieme che cosa vuol dire vivere una relazione. Chissà, magari così capisco davvero di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Puoi ascoltare e vedere Hey Luca sulla tua piattaforma di podcast preferita. Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì dai, mi piace! Lo chiamerò Moriremo Tutti. Moriremo Tutti, ma non era divertente. Moriremo Tutti, l'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo, che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita. Sicuramente quella di Rose Villan è una delle canzoni che è rimasta di più, di più. A primo impatto non mi ha impressionato sicuramente, ma invece poi già nel corso delle serate e ad oggi è diventata sicuramente la mia canzone preferita di tutto il roster del festival. Inizialmente ero un po' critico in questo gioco dove lei veramente spingeva con la voce, portava questa tonalità fighissima, questa melodia struggente in cui veramente andava nel profondo e poi faceva questo cambio col click boom quasi giocoso. Mi quasi infastidiva all'inizio e poi invece l'ho iniziato ad apprezzare molto perché ti rende il brano completo, ma perché? Perché quando poi c'è la parte intensa lì l'intensità è veramente massima. Rose Villan secondo me è la vera vincitrice di questo festival perché questo festival le ha dato la possibilità di aprirsi davvero a nudo completamente anche grazie a questo testo, cioè che ci proprio racconta lei interiormente com'è, come vive, nella sua fragilità che già avevamo visto era chiaro che Rose Villan fosse una sensibilona che va sulla musica per cugire le ferite dell'anima questo è poco ma sicuro però così diretto, cantato così, ti arriva ancora di più non ci sono giochi, non è come Piango sulla Lambo in cui c'è il gioco di synth che ti camuffa un po' no, è stata diretta e poi te l'ha cantata live una canzone che lì per lì mi viene da dire cazzo, nel senso forse live non rende, forse rende più da studio invece no, dipende come la interpreti, dipende dalla serata ed è in uscita il suo disco Radio Sakura io non ho grosse aspettative, devo essere sincero a me Rose Villan mi sembra più una che appunto ti spara la bomba ma non una che ti bombarda, ecco e magari avrò un modo di, come al solito, di cambiare idea però senza dubbio quel ventesimo posto, sia quel che sia è veramente fittizio perché lei, anche a livello discografico, comunque ci stava dentro e ha vissuto comunque una carriera costernata di featuring di gente che l'ha spinta e devo dire che l'hanno spinta perché meritava non c'è nulla da fare poi c'è questo tono sì, potrebbe essere l'album che la consacra non dico o quello che la eclissa perché no ci sono sempre mille altre opportunità però senza dubbio non avrei mai immaginato che avrei desiderato proprio di parlare di lei come sto facendo adesso perché desideravo dire la mia e soprattutto lei ha toccato una tematica che a quanto pare è un nervo scoperto è un nervo scopertissimo questa qui del fatto che l'amore è come un proiettile e tanti cantanti italiani hanno parlato di questo sentimento in questo modo solo il volo ha voluto parlare dell'amore come una cosa che scende dal cielo come un capolavoro ma vabbè senso malissimo no? completamente fuori tempo quello è il concetto oggi chi ha tempo sa che l'amore è come un proiettile e a tutti quelli c'è un pazzo tra l'altro che mi sta commentando 200.000 volte dicendo un pazzo per modo di dire lo dico sempre in maniera giocosa che mi dice mi hanno dato dei consigli molto utili già si sente che te non vuoi più fare le reaction tra i paesi queste non sono reaction sono recensioni le reaction sono musica in sottofondo io con la faccia che faccio e non mi vedete sto facendo le faccette non mi vedete perché è un podcast quindi non è una reaction ma c'è sto tizio che mi consiglia di diventare un podcast culto facendo solo editoriali e episodi e io sono d'accordo con lui però non mi fottete nel senso che io posso fare una giornata l'editoriale e l'episodio sulla musica e continuo a farlo perché ho sempre parlato di musica negli ultimi anni l'ho sempre fatto tutta una vita ok? che dopo tanti anni magari in certi momenti come Sanremo in cui sei costretto a parlare in un certo modo ti rompi coglioni questo è però questo non vuol dire che molli la presa laddove c'è hype da prendere io sarò lì ma episodi come questo dimostrano anche che non è solo un discorso di hype è un discorso che io amo parlare di musica quella che dico io quindi se parlo di Lost Villain ci godo se parlo di Inoki ci godo ma non mi sto a lamentare il mio mestiere quando vi rendo partecipi dei miei pensieri delle mie cose io vado avanti quindi grazie per i consigli gli editoriali ci sono sempre stati il monologato non ha mai mollato se io vado a vedere un film al cinema e mi colpisce io ne parlo questo è il concetto quindi non mi fermo perché questi commenti sono sia utili perché ti dicono cose interessanti che ti pensi già so ma che a maggior ragione mi fanno mi danno forza e tipo cazzo vedi questo format funziona e me lo stanno confermando però c'è sempre un retro di chi cerca come di portarti indietro e io non ascolto più perché purtroppo voi non avete le statistiche davanti voi non sapete come funziona tutto questo e anche chi dice ti sei abituato facendo poco tenendo tanto io vi ricordo che fino a qualche mese fa io non potevo utilizzare le immaginette perché sono stato bannato anni fa perché è una cosa rischiosa in teoria nonostante io sono partner megafone quindi diretto con spotify tuttavia io per non rischio quindi ho dovuto riutilizzare le immaginette immaginate che cosa avrei fatto in questi anni se avessi usato le immagini avrei tipo raddoppiato i click ogni anno quindi abituato tanto poco è tutto relativo è tutto relativo ci sono periodi in cui il mercato è più florido o meno ma una cosa è certa sto monologato non si ferma come Rose Villan su quel cazzo di palco e ci saranno sia contenuti di qualità e sia contenuti per hype e sia contenuti musicali non per hype come è sempre stato e sempre sarà e se da 4 anni questa realtà continua ad essere uno dei podcast più cliccati in Italia e più cliccati di italiani nel mondo ci sarà un motivo e basta darmi consigli perché apprezzo tutto apprezzo il feedback grazie anzi continuate ma io vado per la mia strada perché io so come si deve fare e che a volte quel come si deve fare mi pesa ma in verità manco troppo a volte devi trovare argomenti di cui parlare l'argomento e la tua lamentela esatto abbiamo fatto 3 minuti in più più spazi pubblicitari che si vendono più io che mi sono espresso e apposto così segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente prime ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music che